Non comprendiamo il diniego alla nostra richiesta, lo ha detto in conferenza Stato Regioni la Presidente Umbra Donatella Tesei in merito alle riaperture anticipate. Abbiamo chiesto, ha spiegato l'unanimità come conferenza delle Regioni la riapertura del commercio al dettaglio dall'11 maggio in linea con il cronoprogramma Umbro e dal 18 dello stesso mese la possibilità di gestire a seconda delle situazioni sanitarie regionali le varie riaperture, facendo riacquistare alle Regioni la potestà sul proprio territorio e di conseguenza di poter stabilire un proprio calendario. Non comprendiamo il diniego alla nostra richiesta trincerandosi dietro la mancanza di protocolli di sicurezza INAI, l'ha detto, ancora da perfezionare. Questo può essere comprensibile per altri comparti, ma nel caso del commercio al dettaglio basterebbe adeguarsi alle misure adottate per le attività già aperte. Grazie.